Secondo me, molto meglio, se ti iscrivi al c***o Le avventure di Cielo Piccolo, episodio 5, della felicità Manca poco a Natale, e come tutti gli anni, Cielo Piccolo sta preparando gli addobbi Ha chiamato la mamma, il papà, è una montagna bella Cielo Piccolo però era ancora triste, decise quindi di inseguire la felicità Per un attimo fu felice, molto felice, ma poi chiese quanto costa felice Costa 3 euro e felicità esclusa, rispose il commerciante Cielo Piccolo cercò di fargli cambiare idea E fu così che Cielo Piccolo acquistò un felice, poi un altro felice e divenne il malefico dottor Felice E anche questo video è finito Per ora non mi va di leggere questa scritta molto lunga Posso leggerla io? Va bene, puoi farlo tu Grazie, grazie E allora, e non, e spetta perché non sono leggere io? Non sono leggere, no, no?